Già pronto un nuovo rimpasto di giunta per la provincia di Salerno guidata da Edmondo Cirielli. Sembrano infatti ufficiali i nomi di assessori che molto probabilmente già dalla prossima settimana saranno sostituiti dei nuovi nomi scelti dal presidente Cirielli. A dover abbandonare l'esecutivo dovrebbero essere, salvo modifiche dell'ultima ora, l'assessore lavori pubblici Marcello Feola, Mario Miano, assessore con delega all'agricoltura e Sebastiano Dierna, assessore alla sanità. Per ciò che riguarda Marcello Feola, il suo addio all'interno della giunta era già nell'aria, in quanto proiettato verso una candidatura per le prossime elezioni politiche. Anche per Sebastiano Dierna si prospetta un appuntamento elettorale con probabile candidatura al sindaco del comune di Sarno, data l'impossibilità di ricandidarsi per l'attuale primo cittadino a Milcare Mancusi. In merito invece a Mario Miano, la sostituzione era già nell'aria da tempo e per lui resta l'incarico che già ricopre all'interno di un ente regionale per la gestione dei fondi europei destinati al settore dell'agricoltura. Sembrano già definiti anche i nomi dei sostituti degli assessori uscenti. Il presidente Edmondo Cirielli avrebbe pensato di far ricoprire il ruolo di assessore all'agricoltura precedentemente appartenuto a Miano a Costabile d'Agosto, attuale consigliere provinciale eletto nelle file dell'Udc, proclamatosi successivamente indipendente. Per ciò che riguarda la delega alla sanità invece dovrebbe verificarsi un avvicendamento. Al posto di Sebastiano Odierna, che come detto intende candidarsi al sindaco di Sarno, entrerebbe in giunta con delega alla sanità a Milcare Mancusi, attuale sindaco dello stesso comune. Insomma uno scambio di ruoli tra Odierna e Mancusi. La delega ai lavori pubblici invece per il momento dovrebbe restare nelle mani del presidente della provincia. Previsti altri riordini nelle deleghe che attualmente sono detenute dal vicepresidente Antonio Iannone nell'ottica di un alleggerimento delle sue mansioni in quanto lo stesso dovrebbe ritrovarsi e dover reggere le sorti della provincia in considerazione delle imminenti e sempre più probabili dimissioni del presidente.